Un augurio di buon anno a tutti coloro che hanno scelto di seguirci in questa puntata di Agri Sapori. Un anno che si apre con la nuova finanziaria 2019, approvata negli ultimissimi giorni del 2018, finanziaria che si presenta densa di contenuti e di novità anche per il mondo agricolo. Oltre all'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, un'altra novità è quella che riguarda le aziende che fanno vendita diretta e che potranno dall'anno nuovo acquistare e vendere prodotti di terzi. Sono 300.000 le aziende agricole italiane che beneficiano di questo provvedimento, dunque troveremo nei punti vendita delle aziende agricole dai formaggi sardi piemontesi valdostani alle mele del Trentino Alto Adige fino alle arance di Sicilia. Si tratta di una modifica in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il vincolo è che tali prodotti non debbano appartenere alla stessa categoria merceologica dei propri prodotti e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella della propria produzione. A tal proposito seguiamo oggi una filiera produttiva di un'azienda presente sul mercato orticolo da più generazioni con produzioni a pieno campo e in tunnel che spazzano dalle zucchine e cavolfiori alle melanzane. Questa è la melanzana viola. Melanzana viola deve avere queste caratteristiche, questa varietà sabel. Questa è l'ideale come colorazione, come consistenza e come sapore. Deve avere questa tipologia di colore, questo calice scuro e pochissimo bianco intorno al bel colore viola luccicante. Questa ha avuto dei problemi dovuti a un ristagno d'acqua ed è diventata di questo colore. Questa melanzana è assolutamente non commerciabile e immangiabile perché sarebbe durissima comunque da mangiare. Quindi è uno scarto. Il problema è che è stata dimenticata attaccata alla pianta e prende del nutrimento alla pianta e questo provoca un discoloramento o comunque dei problemi anche alle altre melanzane attaccate. Quindi è di vitale importanza quando si passa per la raccolta, quando si trovano queste tipologie di melanzane che hanno avuto dei problemi, immediatamente tagliarle e buttarle perché altrimenti crea i problemi su tutto il resto della produzione della pianta. Quindi è indispensabile in queste condizioni provvedere, far molta attenzione quando c'è la raccolta, di provvedere immediatamente al taglio e all'alienazione del frutto. La melanzana venne importata in Medio Oriente e nel Mediterraneo nel VII secolo e quindi non ha un nome latino o greco. In Italia venne chiamata melangiana e poi melanzana appunto. Il nome melanzana in particolare veniva popolarmente interpretato anche come mela non sana proprio perché non era commestibile a crudo. La pianta di melanzana richiede un terreno ricco di sostanza organica, molto fertile e ben drenato. Il frutto raggiunta a una colorazione ottimale e la densità compatta della sua polpa può essere raccolto in un periodo che va da agosto a ottobre. Oggi siamo alla raccolta delle melanzane che le avevo piantate 4 mesi fa più o meno. Questi sono quelli nere, più o meno questa è la dimensione che si vende, che si cerca. Di là un'altra fila ci sono quelli striati, un po' più in là sono quelli viole. Noi facciamo questo passaggio nelle melanzane diciamo tre volte alla settimana per dare il tempo che loro crescono alla dimensione che si cerca. qua li raccoliamo tutti, facciamo questo passaggio, poi li portiamo con le ceste a casa e a casa facciamo la divisione, quelli più belli del scarto perché il scarto si butta e ci sono un po' più marone, un po' più piccoli e non si vendono. E questi più belli li mandiamo a chi ce l'ha bisogno. Questa che è bellissima e questi che si cercano con il colo verde verde non marone. Questi che ce l'hanno il colo coletto marone sono così perché il sole li batte. Noi li facciamo per la seconda scelta, per la prima scelta della differenza tra una con il coletto verde e una con il coletto marone. Le melanzane sono ricchissime di minerali, in particolare potassio, fosforo e magnesio. Sono quindi un utile aiuto durante l'estate quando con la sudorazione si tende a perdere molti minerali, soprattutto il potassio. Contengono inoltre una buona quota di vitamine, in particolare vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina K e J. Sono ricchissime di acqua e per questo motivo possono essere considerate un alimento depurativo. La melanzana ha la proprietà di assorbire molto bene i grassi alimentari, tra cui l'olio, consentendone così la preparazione di piatti molto ricchi e saporiti. Proprietà queste nutritive, importanti, che il consumatore dovrebbe conoscere quando va a fare la spesa. Quando si dice che il consumatore acquista con gli occhi e non col palato, ve lo dimostro perché. Questa è una melanzana con il calice bello verde di prima scelta. La tagliamo e vediamo come si presenta. Bella, bianca, perfetta. Ok, e questa è una melanzana di prima scelta. Adesso tagliamo quella di seconda scelta perché ha il calice non bello verde ma rugginito. Guardiamo l'interno di questa melanzana ed ecco che è identica all'altra. Quindi non cambia assolutamente nulla. Proviamo ancora a tagliare un altro pezzo. Ecco qua, sempre bella bianca senza semi. Non cambia assolutamente nulla. Questa melanzana, a causa del difetto del calice arrugginito, abbiamo visto, vale circa 30 centesimi in meno rispetto all'altra che abbiamo tagliato prima. Di melanzane ne esistono parecchie varietà che danno origine a frutti di dimensioni e colori diversi. La violetta, la black beauty, la rotonda bianca dalla buccia tipicamente chiara, la mostruosa freggiata da questo appellativo per beffeggiare la sua particolare forma enorme e altre ancora. Queste sono di melanzane, di tre tipi di melanzane. Queste sono quelle striate, ossia rosse con righette bianche, come vedete. Questo è un altro tipo di melanzane, si chiamano melanzane ovale scure. Si è stata piantata in aprile. Invece questa è la melanzana violetta. Il procedimento è uguale all'altro come piantagione, sempre nel mese di aprile. Vengono poi raccolte in pieno campo, portate a casa, messe in cassette omogenee, tutte uguali. Poi, come vedete, c'è un timbro che vengono prodotti dal Piemonte e poi, come al solito, si caricano e si portano al mercato. Il carico è stato terminato, per il momento, si porta per avere il carico più o meno omogeneo per il mezzo di trasporto e li portiamo al CATI, mercati generali. Dopo che avete visto mio padre portare i bancali sul furgone, siamo partiti verso la destinazione di questa merce. Questa merce verrà consegnata al CATI, c'è stato tutto un processo di crescita e il ciclo delle melanzane andrà a terminare, dipende un attimino, dall'andamento climatico. Però andrà a scemare poco per volta fino a cessare la produzione verso il 10-15 ottobre. Mentre, per quanto riguarda il scorso del broccolo, andremo avanti fino a fine ottobre, perché sono stati messi a dimora in tre tranche, a distanza di due settimane l'una dall'altra. Avete visto questo prodotto, quello che è stato caricato in questo viaggio? È tutto prodotto di prima scelta, bollinato. Io non mi stifiorò mai di ripetere che i consumatori prima si impara a riconoscere la materia prima sotto il profilo organolettico e meglio è. Mentre adesso il cibo, parlo in particolare della verdura e dell'ortofrutta, il 90% del valore viene dato dall'aspetto visivo e non dall'aspetto organolettico. Quindi questo è un problema che è molto difficile da far capire al consumatore finale. Siamo quasi giunti a destinazione. Vedete qua alla destra i locali del Centro Agroalimentare Torino. Sul totale della merce che viene conferita giornalmente, quindi parliamo di ortofrutta, è dal 4 al 5% la quantità conferita dai produttori. Tutto il resto viene comunque da fuori. Come produttori parliamo di produzione coltivata nelle province principalmente di Torino, Asticuno e Alessandria. Anziché questa merce essere portata presso lo stand che l'azienda nostra affitta all'interno del centro, viene portata a un magazzino sempre situato all'interno del centro agroalimentare, ma che viene destinata direttamente alla grande distribuzione. I mercati e i centri agroalimentari sono per loro natura interlocutori privilegiati del mondo agricolo. Devono diventare sempre più luoghi di coordinamento delle informazioni, di pianificazione dell'attività di marketing e di fornitura di servizi. A tale scopo la collaborazione tra produttori e grossisti è indispensabile, coniugando la presenza diretta lungo la filiera produttiva agricola e l'utilizzo di propri sistemi di gestione e controllo della logistica in tempo reale, il gruppo T18, nato alla fine dell'Ottocento a Torino, rappresenta una delle più moderne ed importanti realtà nel comparto ortofrutticolo italiano. Qui ci troviamo nel magazzino di ventilazione dell'Agro T18 Italia. In quest'area non tutta, solo una parte di produzione agricola piemontese passa per essere poi ricompattata in un'altra forma e in un altro mix per aggiungere poi grandi acquirenti sparsi un po' in tutta Italia e anche in Francia. Da Cona, da Carfura, a Selex, a Crai. E questo è quello che capita generalmente dalle due del mattino, quando iniziano ad arrivare i primi prodotti raccolti la sera precedente, fino alle 7-8 di sera. Quindi c'è un po' un flusso continuativo sempre legato a ciò che capita in produzione, perché a seconda del prodotto, a seconda delle necessità che ha al momento della raccolta e per la lavorazione, noi qua siamo. E quindi gestiamo la logistica in funzione di quello che abbiamo pianificato come produzione, ma soprattutto organizzato per la raccolta e la consegna ai clienti finali. Il prodotto viene controllato, verificata la qualità, la freschezza rispetto degli standard che abbiamo concordato con i vari produttori e in funzione di quello poi viene selezionato, è diviso e già preparato per ogni cliente. Non tutti i clienti desiderano lo stesso prodotto e lo stesso servizio, per cui magari abbiamo, per esempio, il pomodoro qualibri, abbiamo 6 lavorazioni differenti. C'è chi vuole imballi più piccoli, magari perché mediamente i vari punti vendita sono di più ridotte dimensioni, gli spazi del reparto ottofrutta sono inferiori. Oppure usiamo anche imballi più grandi, tipo il 40 cm x 60, che permettono chiaramente un'esposizione e anche una vista più accattivante per il consumatore finale. Se necessario viene posto in una cella a temperatura controllata, se necessita di un'umidità e una temperatura costanti, viene etichettato con il nostro marchio o con il marchio della marca privata che utilizziamo, da lì viene rimesso, pesato, messo sui pallet e preparato per la consegna sulle piattaforme della distribuzione. T18 fondamentalmente è un'azienda che opera nel settore dell'ortofrutta da più di un secolo, nel tempo ha costruito rapporti con la produzione un po' in tutto il meridione d'Italia, dalla Sicilia alle Puglie, alla Campania, all'Abruzzo, al Lazio, alla Sardegna. Si è composto un paniere di vari territori d'Italia che permette, per alcune referenze, di avere quasi destagionalizzato l'offerta, dal carciofo al pomodoro, allo zucchino, al finocchio, all'uva, alle fragole, ad altri prodotti poi più collaterali che comunque nel momento in cui abbiamo un'offerta di servizio per la grande distribuzione risolvono problemi organizzativi per i grandi acquirenti. A livello nazionale i produttori sono centinaia, solamente in Sicilia siamo intorno ai 120. Con i prodotti del Piemonte abbiamo scelto anche di caratterizzarli con un bollino tipico dove c'è la regione Piemonte e la scritta Piemonte proprio perché anche il consumatore si ritrova un po' a comprare e riconoscere quello che noi vogliamo garantire. È un prodotto del territorio buono, saporito, fatto da produttori esperti e questo è il nostro ruolo, cioè coordinare e gestire al meglio non solo la produzione ma soprattutto la distribuzione e la valorizzazione del prodotto. A livello di volume d'affari posso dire che il gruppo sviluppa più o meno 55-58 milioni di euro di fatturato. Tradotto in chili, tenendo conto che mediamente il nostro prodotto costa 1 euro e 10, 1 euro e 15 mediamente possiamo parlare di 50 milioni di chili sviluppati in un anno. Il CAT è il centro agroalimentare di Torino che si espande su 440.000 metri quadrati di area mercatale occupata e recintata e 120.000 metri quadri di area coperta. Sono presenti al suo interno 84 aziende grossiste insediate e circa 170 produttori locali delle province di Torino, Cuneo e Asti. Buongiorno a tutti e benvenuti al CAT, che è il centro agroalimentare Torino, che è un polo logistico importantissimo per quello che riguarda l'ortofrutta. È uno dei poli logistici e dei mercati all'ingrosso più importanti d'Italia. Queste strutture, nate prevalentemente all'inizio dell'anno 2000, sono disseminate nelle varie regioni italiane e quello di Torino è il terzo mercato all'ingrosso italiano per dimensioni e per volume di merce transata. Per darvi qualche numero, posso dirvi che qua siamo su un'area di quasi 500.000 metri quadri e l'area mercatale e l'area coperta raggiunge i 100.000 metri quadri, quindi delle dimensioni veramente importanti. All'interno di quest'area coperta sono presenti le aziende grossiste che operano nell'ortofrutta, sono presenti più di 80 aziende grossiste, alcune delle quali costituiscono delle realtà imprenditoriali di decisa valenza e importanza. All'interno del CAD sono anche presenti, e questo è molto importante, ci teniamo molto, i produttori agricoli che vengono qua a vendere la loro merce. Una cosa interessante che forse non tutti sanno è che qua tutta l'attività si sviluppa durante la notte. Quindi qua verso le... dal luna del mattino iniziano ad animarsi il centro, iniziano ad arrivare i fornitori, i produttori con tutta la loro merce. Quindi il centro inizia a popolarsi, iniziano ad animarsi e dalle tre e mezza del mattino in avanti iniziano ad arrivare gli acquirenti. Chi sono gli acquirenti? Gli acquirenti sono coloro che riforniscono i mercati rionali poi del Piemonte, della Val d'Aosta, del sud della Francia, alcune zone della Lombardia. Quindi diciamo che forniamo una parte notevole del nord Italia. Senza questi centri non sarebbe possibile l'attività dei mercati rionali. Quindi è molto importante che continuino nella loro attività. L'attività di vendita si sviluppa nel corso di tutta la notte, prosegue fino alle 7, alle 8 del mattino. Qualche dato in termini di quantità di ortofrutta. Parliamo di 500-600 mila tonnellate di merci trattate ogni anno. la quantità di persone che lavorano nel centro, che superano ampiamente il migliaio di persone, fra i grossisti insediati, i movimentatori, i produttori. Io credo che arriviamo a una cifra di quasi 2.000 persone. E poi ci sono tutti i mercati rionali, i compratori che dipendono da noi e quindi aumentiamo ancora di varie migliaia di persone, diciamo le persone che traggono sostentamento da questa attività. Quindi direi fondamentale per il tessuto cittadino, regionale e non solo. Una peculiarità del CATE, della maggior parte dei mercati all'ingrosso presenti in Italia, quelli di dimensione notevole, è che si lavora di notte. E questo ha tutte le conseguenze non solo lavorative, ma anche sulla vita quotidiana, sulla famiglia. È un tema molto importante perché da un lato determina una difficoltà nel ricambio generazionale di queste aziende. Quindi da un lato le aziende affrontano la difficoltà a introdurre i figli in azienda, ma hanno anche la difficoltà a reperire persone che vogliano lavorare durante la notte e che quindi abbiano una vita molto particolare. Il tentativo, diciamo il processo che si sta portando avanti a livello italiano, è quello di spostare gli orari. Alcuni mercati ci sono già riusciti, quindi esistono alcuni mercati in Italia che applicano un orario diurno. Questo ha cambiato totalmente la vita delle persone, anche il valore delle attività, perché cedere un'attività che viene praticata durante il giorno è diverso rispetto a cedere un'attività che viene condotta durante la notte, in cui è meno facile trovare qualcuno disponibile a subentrare. Quindi l'auspicio è che in tempi non biblici si possa effettivamente di venire a un cambiamento di questo tipo che oggettivamente avrebbe risvolti positivi per tutti gli attori coinvolti. Lasciamo il CAT di Torino e la filiera orticola per occuparci di un'altra filiera, quella del biogas. Una realtà molto importante per il nostro territorio è la produzione di energia rinnovabile, che ha dato vita a un indotto di lavoro di produzione agricola, di attività connesse e servizi che contribuisce a diversificare e sostenere il reddito di migliaia di imprese agricole. Il Consorzio Monviso Agroenergia riunisce 334 soci, 121 impianti di biogas che producono 510 gigawattora di energia elettrica immessa in rete e 16.500 standard per metro cubo ora di metano prodotto con l'uso di quasi un milione di tonnellate di reflui zootecnici annualmente trattati. In questi anni lo sviluppo degli impianti a biogas ha permesso di sostenere l'economia agricola locale, ha creato reddito e lavoro sul territorio e ha permesso di raggiungere delle performance ambientali significative e impensabili senza gli impianti a biogas. Gli incentivi riconosciuti al comparto biogas fanno crescere e sviluppare il territorio rurale e garantiscono una notevole ricaduta a livello economico e sociale. In collaborazione con FIPER, la Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili e con il Politecnico di Torino abbiamo realizzato uno studio per valutare l'impatto economico e occupazionale creato dagli impianti a biogas. Si è dimostrato che per ogni euro aggiuntivo di fatturato creato dagli impianti a biogas si genera un impatto monetario complessivo pari a 2,1 euro sul sistema economico. Sul fronte occupazionale, per ogni unità lavorativa annua impiegata direttamente negli impianti a biogas se ne attivano 7 lungo tutta la filiera. Come settore guardiamo all'importante scadenza legata al primo ciclo di incentivazione degli impianti che avverrà tra il 2024 e il 2027. Siamo convinti che non esista un'unica soluzione al problema della sostenibilità degli impianti nel lungo periodo, ma che si debbano perseguire una serie di azioni che noi abbiamo chiamato strategia 2024 personalizzate e tarate su ogni singolo impianto. Gli impianti dovranno rendersi maggiormente indipendenti dagli incentivi pubblici attraverso la valorizzazione economica di tutti gli output e quindi del calore, della CO2 e del digestato attraverso un'ottimizzazione dei costi di produzione e promuovendo e sviluppando le produzioni agroalimentari di qualità connesse al biogas. Per garantire un futuro al settore sarà necessaria una stretta collaborazione tra i produttori del biogas, il governo e gli enti regolatori. I produttori del biogas saranno chiamati a un grande sforzo di innovazione e di miglioramento dei loro impianti. Il governo, attraverso la strategia energetica nazionale, dovrà riconoscere il valore del settore del biogas. Gli enti regolatori dovranno definire dei sistemi di incentivazione in grado di supportare lo sviluppo dell'intera filiera. Il settore del biogas in Italia conta circa 2.000 impianti di cui 1.500 agricoli per un totale di 970 MW installati ed un fatturato di circa 2 miliardi di euro. Il Piemonte conta circa 80 MW installati di biogas agricolo per un fatturato di circa 175 milioni di euro. Il consorzio Monviso Agronergia conta oltre 120 impianti di produzione di biogas agricoli in Piemonte e in Lombardia per un totale di oltre 65 MW installati e di circa 150 milioni di fatturato. Andiamo a conoscere ora due tipologie di aziende zootecniche che hanno scelto di investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando i propri reflui aziendali. Nel nostro caso specifico il nostro core business aziendale è l'allevamento di suini. L'impianto di biogas è una risorsa importante per l'azienda però l'azienda va avanti anche senza la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un impianto di biogas del genere viene alimentato con una reazione giornaliera media di 83 metri cubi di liquame suino che viene interamente prodotto dall'azienda qui adiacente e connessa e da 40 ton al giorno di cereali vari e culture intercalari sempre prodotte dalla nostra azienda e da altre aziende agricole di nostra proprietà. A livello di gestione quotidiana occupa una persona per fare le operazioni di carico della frazione liquida, della frazione solita e di movimentazione delle frazioni in uscite. Nella nostra situazione specifica questo impianto non l'abbiamo costruito ai fini speculativi ma l'abbiamo costruito per ottimizzare anche il reddito e la funzionalità dell'azienda perché giusto per dare due numeri ragionando sul capitale investito un impianto del genere dà una redditività indicativa contando le quote rischio all'incirca del 5%. La nostra azienda è un'azienda agricola e cerealicola abbiamo un allevamento di tori da carne di razza francese e di razza charolais abbiamo circa 1500 capi e circa 250 ettari di cereali di cereali che vengono riempiegati tutto nell'utilizzo nella nostra azienda sia per l'alimentazione dell'allevamento che per l'alimentazione di un impianto a biogas che abbiamo associato all'allevamento. Abbiamo associato questo impianto a biogas al nostro allevamento nel 2012 per ampliare un po' l'allevamento quindi sfruttare i reflui zootecnici che prima non venivano valorizzati dal nostro allevamento se non come concimazione organica nei campi invece con l'impianto si riesce a sfruttare questa energia che i reflui hanno, l'ammoniaca o i gas che sono presenti dentro vengono sfruttati con la produzione di energia elettrica e i cereali in esubero al posto di venderli sul libero mercato li rintregheremo nella nostra azienda anche come alimentazione per l'impianto a biogas il prodotto che esce dall'impianto a biogas, il famoso digestato è un fertilizzante molto più buono del classico letame perché viene usato come concimazione organica sempre nei terreni ma con una quantità di azoto assimilabile subito dalle culture quindi meno volatibilità nell'aria e una buona riduzione di concimi chimici sulle coltivazioni perché giustamente è un azoto che viene assimilato molto meglio dalle piante anche oggi si chiude questo spazio che abbiamo dedicato al mondo agricolo ma Agrisapori continuerà a tenervi in compagnia anche la prossima settimana sempre su questa emittente e per chi volesse rivedere questa puntata ma anche molte altre può farlo online sul sito www.agrisapori.it grazie per averci seguito